E' muro contro muro tra il governo e le regioni sulla proposta di referendum abrogativo della nuova geografia giudiziaria presentata lo scorso settembre da 9 consigli regionali e sulla cui ammissibilità è chiamata ad esprimersi oggi la Corte Costituzionale. Solo in Puglia sono 34 i comuni interessati dai tagli dei tribunali, 5 nella sola circoscrizione di Trani, Andrea Barletta, Canunza, Molfetta e Ruvo. Durante l'udienza a porte chiuse svoltasi questa mattina la Corte Costituzionale, durata poco più di un'ora, le posizioni tra le due parti sono rimaste distanti. Da un lato i rappresentanti dei nuovi consigli regionali di Puglia, Calabria, Basilicata, Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria, Campania e Marche che ritengono necessaria la consultazione popolare per l'abrogazione della riforma che è entrata in vigore il 13 settembre scorso ha portato alla chiusura di circa 1000 uffici giudiziari minori. Dall'altro l'avvocatura dello Stato che in rappresentanza del governo ha sostenuto l'inammissibilità del quesito referendario e il rischio che con un'abrogazione della riforma si vada incontro ad un vuoto normativo. La riforma va avanti ma con alcuni correttivi che non riguardano l'ipotesi di una riapertura delle sedi chiuse, aveva sottolineato solo due giorni fa il guardasigili Anna Maria Cancellieri in merito al taglio delle sedi dei tribunali. Per il 95% dei casi, ha aggiunto, la riforma è andata bene, non sta creando problemi, per il restante 5% si tratta di situazioni da puntualizzare a cui porre dei miglioramenti. Questa legge non è collegata al bilancio, invece spiegato al termine dell'udienza a porte chiuse Mario Petrella in rappresentanza dei consigli regionali di Abruzzo, Basilicata e Liguria, dunque non rientra tra le eccezioni previste dall'articolo della Costituzione che regola il referendum, come invece sostiene l'avvocatura dello Stato. Chiare quindi le posizioni in campo, il referendum ha già avuto il via libera dalla Cassazione il 12 novembre scorso, se la consulta che si esprimerà nelle prossime ore non dovesse ammettere il referendum, le regioni si dicono pronte a ricorrere alla Corte di Giustizia europea.